Uno stupendo album fotografico dedicato al pianeta che abitiamo, l'astronave Terra. NASA, l'agenzia spaziale statunitense, celebra la 45esima giornata mondiale della Terra con una raccolta di immagini mozzafiato. Il nostro pianeta visto dallo spazio, casa nostra, in 80 scatti che abbracciano fiumi, ghiacciai, foreste, vulcani, catene montuose, distese oceaniche. Istituito nel 1970 dalle Nazioni Unite, l'Earth Day viene festeggiato anche in Italia. In contemporanea con Washington, dove è stato allestito un grande villaggio di fronte alla Casa Bianca, Earth Day Italia ha realizzato il suo villaggio per la Terra in uno dei luoghi più belli della città eterna, al galoppatoio di Villa Borghese. Due giorni ricchi di eventi all'insegna dello sport, della musica e del divertimento, ma anche e soprattutto della riflessione sugli stili di vita più rispettosi del nostro pianeta. Protagonista anche l'INAF Osservatorio Astronomico di Roma, che ha partecipato all'esterno uno spazio dedicato all'astronomia.